Faccio la parola al sindaco di Rotonda. Si parla dal 1965 e soprattutto di quello che è stata l'azione del comune che ha avuto l'autore di rappresentanza, la storia non era ragione, ma l'hanno sempre raggiunto. Soprattutto vorrei fare un chiarimento, noi non siamo ambientalisti, noi siamo prima i cittadini e poi vogliamo questa parola. Qua c'è ambientalista e qua c'è ambientalista, noi siamo i cittadini di una zona che vogliamo tutelare i nostri cittadini. Questo è quello che si dice e ci abbiamo sempre creduto. Credo che al punto d'accordo, noi per fare esempio, noi abbiamo creduto un certo tipo di sviluppo che poi era un po' collegato alla nascita del barco. Questo è quello che abbiamo creduto. Ci abbiamo creduto al punto d'accordo, al punto d'accordo. C'è il senso del barco, qui questo è il senso del barco. Perché la natura è sempre la stessa. C'è un anacopo che stabilisce come doverlo utilizzare un parola protetto. C'è il senso del barco. Però, a ragazzi, poi, se vuole funzionare. E l'ho detto anche in questa portazione. Noi abbiamo rinunciato a dire se migliori perché dovevano fare una cittadina, un appoglio. O te, la cosiddetta del barco. Ci sono già pronti soldi e noi abbiamo rinunciato. Però, abbiamo fatto anche qualcosa. Quando le cose si facevano feriamente, la Commissione Ambiente del Serena venne sul posto. Dile, vuoi il barco? Dice, sai, io voglio fare il barco. Già ce l'ho fatto. C'erano, dove dovevano fare il barco? Il barco era il barco. Dico, sentite, noi siamo comunque disponibili. Dice, ma credo, noi ci crederanno che dovevano fare questo. Però, c'è un però. Noi che vantaggi abbiamo a questo barco. Si svilupperanno le cose che andiamo a stabilire. Quindi, in che senso? Ci facevano inserire un articolo. Dice, noi mettiamo la disposizione del nostro territorio. Quello locale, quel provinciale, regionale, nazionale. Dobbiamo. Però noi dobbiamo avere un ritorno, nel senso che certe cose non possiamo fare. Come potrebbe essere la centrale. Però, dobbiamo avere un tanto ritorno. E poi, l'Anticolo 7 parla molto chiaro. Per tutti i finanziamenti coerenti con le finalità del barco. I comuni, all'interno dell'area parte, hanno la precedenza. Significa, prima dei posti degli altri comuni, vengono i comuni nell'area parte. Non è felice. C'era l'ultimo posto, perché all'epoca si discuteva. Si discuteva la commissione di tutto il posto. Beh, abbiamo detto, ma ci sono pure i cittadini, mica solo i comuni. C'è un cittadino. E in una graduatoria deve poter fare una qualche cosa. Poi il cittadino deve poter fare una qualche cosa. E ci sono scritti. Però non l'hanno mai applicato. Vogliono applicare queste cose che mi... che ha stabilito bene le senate, vediamo i soldi per fare. Chi so, i soldi ci sono, se facciamo rispettare una cosa. Ma non abbiamo bisogno che ci devono avere. anche perché qualcuno, quando è un privato, deve poter dare qualche cosa, significa che... Deve fare un affare. Se non ti dà niente, chi dà niente per niente? Niente per niente non lo dà nessuno. Quindi, se qualcuno viene a casa tua, dovete ruppare i capi. Io credo che ci devono raccontere i fatti soldi. In quanto sono stati attuali, che come se uso... E' come se usano, senza la pietra, non possono fare niente. Le norme che ci sono adesso sono norme che bisogna applicarle, bisogna rispettarle. E se si rispettano, se si rispettano, non possono fare niente. Se l'abbiamo, vedete, quando poi scoprivo il scopo 7 dicembre 1996, su una, diciamo, una proposta, più che una proposta, un ricorso fatto da due euro, assomento, beh, che cosa dice? Di che in quella centrale si può fare solo, solo, ma anche solo, non si può fare niente. E ancora non è che è stata niente, non è che c'è un'altra norma che sta per 5 gradi. Quindi noi stiamo qua, siccome ci sono dolorevoli, perché possono fare qualche modo, allora cominciamo a dire che ci devono fare, ma sennò sono venuti qua, perché ci devono, ci devono a conoscere bene i problemi, e quindi è anche l'attivanza. Hanno fatto le interrogazioni, sia di Appalachio, che di Appalachio, che di Appalachio, però con internazioni intorno alle, non hanno risposto all'interrogazione. E quindi, lì, 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 almeno per il momento, per come c'è la proposta, la proposta dice che dove ci sono liquidamente, le procedure sono levante, quindi non possono andare almeno a livello nazionale, se viene confermato qui. e io voglio che voglio che devono parlare chiaro che io la materia vuoi a conoscere quindi ci dobbiamo vedere ma per fare completamente qualche cosa siccome completamente qualche cosa possiamo occupare solo la manifestazione perché non era la regione che non era mai non era mai evocata perché la lettera dice che la generale non ci può essere beh voglio rispettare lo stesso fatto mica hanno rinocato la prima pelita non è stata mai rinocata ma stanno tentando di frasare che sono buono a cambiare ma per il momento quella esce e quello che fa rispettare fa rispettare quella allora voglio dire che è inutile che discutiamo ancora dobbiamo vedere concretamente che cosa dobbiamo fare ancora se no noi è bello parlare tra noi stare in giro stare in giro la cosa molto bella perché i dati dottorieri hanno fatto male sono ancora un amico modo però dobbiamo dire dobbiamo vedere pure che cosa dobbiamo fare ha ragione possiamo andare giù ha ragione perché c'è la legge però la legge non è solo rispettare c'è la legge allora non è solo un'interrogazione ma ha fatto un'interrogazione se possiamo fare un modo o un'altra cosa e possiamo andare a noi perché noi ma me che è tanto lontano una volta ero malissimo poi ho lontano però ci possiamo andare andare a mandarci concretamente e organizzarci come si deve perché chi eminenzia i problemi in qualche modo lo devo prendere in considerazione c'è per i fatti di rascosto e di rascosto fino adesso l'ho fatto solo alcuni nostri colleghi che sono andati al ministero si note l'ambiente sono andati al ministero che è uno spirotto e vedete che se mi ricordo il ministero a me non mi aveva ricordato il mio c'erano delle elezioni oppure le loro parole e vedete non ne avevo e io ci sono andato lo stesso siamo andati a te provocare una fine a cui è il nostro ringraziamento è sempre tutto quello che sta facendo è stata accontata e quando hanno fatto il documento voi non ci potete neanche in mano perché lo potete forciare e poi di parte hanno fatto il documento solo in quelle che le hanno fatto ma volevo arrivondersi di cambiamento io non so come possono cambiare qualche cosa perché le cose che ho detto solo a parte quelle che sono sono atti deliberati che è la cosa forse sono quelle che non sono state deliberate sono quelle che vanno uno scrivere il direttore vanno in parlo che c'è questo 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 ci sono tutte una serie di elementi che non possono essere annullati ci vogliono qualunque soldi ma quello quindi le le quelle no non possono essere annullati e fino a che si aggiungono quelle no centrali non possono e io spero che avvo così di stato possa riconvergare così come riconvergare anche se non la città perché ora meglio ora meglio è l'atto di quanto è l'esercito io non ho scontrato ma come cittadino e non come grazie scusate sono stato poco poco scusate